Ciao arcobaleni, ciao unicorni e ciao angeli, bentornati in un altro video. Allora oggi prima di cominciare la stesa, comunicazione di servizio, mi si è rotto definitivamente, è proprio deceduto il pc che negli ultimi anni, se vi ricordate mi aveva già dato molti segnali di cedimento, è morto definitivamente quindi sono senza pc e al momento non posso comprarmene un altro. Quindi se non vedrete più dei video è per quello, nonostante ne avessi già due girati e editati non li posso caricare perché sono rimasti sul pc vecchio, quindi per un po' non so quanto perché non so quando posso prenderne un altro non potrò appunto caricare video, riuscirò forse a caricare appunto questi delle letture per il semplice fatto che questi non vanno editati, li giro con chiaramente il cellulare poi prendo e carico e basta senza editing, cosa che non posso fare con gli altri perché erano video che richiedevano un certo editing, quindi se non mi vedete per un po', se non per le stese è per quello sempre se riesco a mettere anche queste ma credo di sì. Intanto vi invito, se non lo fate già, a seguire la mia pagina facebook, trovate il link giù in info box mettete mi piace e seguitela perché non avendo il canale per comunicare uso la pagina facebook quindi andate a seguirla perché se devo farvi una qualche comunicazione di servizio lo faccio tramite facebook detto questo, oggi per la stesura generica, ricordiamo sempre che è generica quindi non può risuonare con tutti prendete solo ciò che vi risuona, ciò che sentite vostro e lasciate andare il resto potete anche guardarne più di una se vi sentite attratti da più di un mazzo ho pensato di scegliere anziché le pietre dei charms, dei braccialini mazzo 1 bracciale di perline rosa, mazzo 2 con gli strassi, mazzo 3 ha della metista va bene ovviamente anche se siete uomini perché tanto non vi deve attrarre per forza il bracciale quanto il mazzo vi deve chiamare quindi fate la vostra scelta e giù in info box ci sono i timestamp per passare al mazzo che avete scelto intanto vi chiedo un mi piace, lasciate un commento, lasciatemi un riscontro per favore perché vedo che nessuno mi lascia più riscontro quindi non so se vi ci rivedete, se è giusta, se è sbagliata e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e attivate le campanelle per la notifica passiamo al mazzo 1 allora per il mazzo numero 1, quello con le perline viola, abbiamo, chiaramente ho mischiato più mazzi come sempre vi lascio se non l'avete vista qui nelle schede info la lettura per tutto l'anno del 2021 se non l'avete ancora vista potete recuperarla partendo dai tarocchi egizi abbiamo il 5 di spade allora vi dico già subito che questo mazzo mentre lo mescolavo sentivo un'energia abbastanza pesante e un po' bloccata per cui non credo ci saranno carte proprio spettacolari il 5 di spade infatti, cominciamo già subito sono spade incrociate, sono impedimenti, sono ostacoli, energia appunto bloccata ma vuol dire anche attaccamento ai beni materiali e legame nefasto e indissolubile ma anche avarizia quindi qualcuno di voi ha un legame, ha un qualcosa nella sua vita che può essere legame sia coi beni materiali che con una persona o più persone un momento, un attimo di blocco siete come incastrati in una situazione potrebbe essere anche lavorativa da cui non riuscite a dipanarvi e per alcuni di voi, solo per alcuni ovviamente essendo generica c'è anche un legame indissolubile e nefasto con i beni appunto materiali quindi avete un blocco momentaneo dal quale non riuscite ad uscire e dal quale probabilmente non vedete un'uscita andiamo a vedere cosa suggeriscono gli angeli allora abbiamo il 3 di acqua e dice festeggiamento e celebrazione, un matrimonio, una laurea o una nascita c'è bisogno di maggior divertimento e già qui si ricollega all'aria, al blocco, all'aria pesante che sentivo mentre stavo mescolando ecco perché vi suggeriscono infatti gli angeli di uscire un po' nel limite dei possibili visto la pandemia e le zone rosse e festeggiare un po' e appunto cambiare aria, sbloccarvi fare, l'ho detto a 444, non so se avete visto 444 se questa strada è bloccata dovete prenderne, non dovete intestardirvi e tentare di sfondarla, potete prendere un'altra strada come ad esempio svagarvi un attimo potreste avere appunto, adesso andiamo verso la bella stagione quindi maggio e giugno iniziano con i matrimoni, potreste avere un invito, un matrimonio o una laurea, anche quello è periodo mi sembra d'aprile o addirittura un battesimo, una nascita, qualcosa del genere vi dicono che comunque avete bisogno di maggior divertimento per togliervi di dosso anche lo stress, avete dell'aria, avete dell'energia congestionata comunque la carta della porta infatti vi dice eccola qua la porta del giardino non so perché sono stata colpita dal 32 lassù non so se è l'età di qualcuno di voi oppure se vuol dire qualcosa il 32 o il 3 più 2 è 5 però mi sentivo di dirvelo allora la porta del giardino è una carta invece molto bella appunto vedete dai blocchi dall'energia congestionata il cancello si apre, non è più bloccato dopo che cambierete appunto strada vedete che questa strada è aperta infatti è una carta molto bella vuol dire che si esce appunto da un periodo buio che è appunto questo e si guarda all'interno di se stessi è un po' di introspezione vedete che il giardino è un giardino come dire il giardino segreto interno e riscoprerete riallaccerete alcuni alcune amicizie vecchie magari è proprio uno di questi eventi detto dalla carta precedente o farete nuove conoscenze che saranno comunque positive per il futuro alcuni di voi potrebbero anche tornare a viaggiare perché comunque anche se c'è la pandemia hanno riaperto i voli io ho già delle colleghe che hanno prenotato i viaggi per giugno per cui nel limite del possibile con le dovute precauzioni è possibile ancora viaggiare e vi sentirete anche molti ispirati e creativi magari riprenderete o scoprirete passioni che avevate lasciato nel passato che non avevate coltivato mai potrebbero essere nuovi corsi di studio anche artistici perché no comunque si apre c'è davanti a voi una nuova strada con un periodo molto positivo cosa succede in amore eccolo qua risolvi le questioni familiari ecco dove era tutta l'energia congestionata tra l'altro 5 forse siete 5 in famiglia ah tra l'altro prima ho detto il 32 ero attratta da questo 3 più 2 è 5 forse siete 5 in famiglia appunto c'è il 5 qui qui e qua vi invitano appunto a risolvere le questioni che avete in sospeso con la famiglia perdona i tuoi genitori e la tua vita amorosa ne trarrà giovamento potrebbe essere che siete voi genitori e avete qualcosa di in sospeso con i vostri figli o siete voi figli e avete in sospeso qualcosa con i genitori perché no anche dal passato è ora di lasciarlo risolverlo e lasciarlo andare si sta congestionando è come un gomitolo una matassa del gomitolo che fa il nodo e non lascia fluire le cose belle le cose nuove quindi è il momento di srotolarlo il bandolo della matassa e lasciarlo andare per fare posto a situazioni migliori il consiglio che vi dà l'angel therapy infatti è il che ti pareva lascia andare dice collabora con l'arcangelo michele per lasciare andare tutto questo che non ti serve per il tuo scopo quindi chiedete aiuto a non serve che sia per forza un'entità precisa potete chiedere aiuto all'universo e liberarvi di questo peso di questo dolore di queste cose rimaste comunque in sospeso per raggiungere il vostro scopo che è appunto riscoprire voi stessi gli unicorni invece vi dicono scusate sulla mano screpolata l'igienizzante migliori amici e dai che di nuovo si parla di conoscenze di vecchie amicizie ritrovate e nuovi amici e infatti gli unicorni vi dicono i veri amici restano uniti sempre e comunque ecco che magari non vi vedevate da dieci anni questi uno di loro magari appunto si o si laurea o si sposa magari è più facile se alcuni di voi hanno 32 anni è probabile che si stiano per sposare vi invitano ed è anche un modo per riallacciare i ponti e anche dopo anni e anni che non vi vedevate o sentivate o vi sentivate al massimo su facebook whatsapp o qualche messaggino vi sembrerà di che non si sia mai fermato che il tempo si sia fermato quando andavate magari alle superiori o all'università che non siano passati tutti quegli anni vi sembrerà come l'ultima volta che vi siete visti anche perché i veri amici la vera amicizia dice restano sempre comunque e quindi saranno sicuramente incontri che vi faranno bene all'anima e al cuore perché tolta tutta questa energia congestionata con il passato ecco che c'è un bel futuro dove si rilacciano vecchie relazioni con gli amici e perché no magari sarà proprio con loro che viaggerete chi lo sa la carta energetica che anche questa volta vado a prendere vi dice bagno a proposito di energia congestionata ora può sembrare brutto detto così ma il bagno è dove appunto scarichiamo come posso dire per essere delicata le scorie ciò che non serve più o anche energia in eccesso ecco diciamo così insomma nel bagno ci si scarica ciò che non serve più ciò che se lo tenessimo dentro sarebbe tossico chiaramente e ci si pulisce quindi ci si si pulisce anche l'energia e il corpo proprio fisico attraverso la doccia la vasca quindi di nuovo vi sta dicendo di ripulirvi sia dentro che fuori e non parlo solo del bagno ovviamente intende anche energeticamente visto che qui c'era qualcosa di bloccato vi dice di ripulirvi magari fate anche qualche se avete la vasca qualche bagno con il sale grosso 11 e 11 avete visto ecco quindi il suggerimento era quello fate il bagno con il sale grosso purificate la casa con un po' di incenso accendete qualche candela e ovviamente tenete pulito e in ordine e la vostra energia e la vostra vita mettendo a posto ovviamente fuori cioè inteso la casa e dentro cioè voi dentro giardino interiore sicuramente sicuramente avrete un miglioramento mi fate sapere per chi ha scelto il mazzo 1 se vi risuona passiamo al 2 eccoci con il mazzo 2 che è quello che ha il braccialetto con gli strass andiamo a vedere cosa ci dice allora il mago il bagatto il mago è l'arcano maggiore 1 l'uno è sempre il primo numero chiaramente fra tutti e quindi spesso è un nuovo inizio il mago è anche infatti una persona che ha iniziativa quindi magari può esserci l'inizio di qualcosa è autonomo è qualcuno di forte che non si fa soggestionare dagli eventi esterni e dai giudizi esterni può essere anche rifiuto appunto dei pregiudizi degli altri e di solito può appunto essendo appunto l'uno l'inizio rappresentare inizio di imprese sentimentali professionali o economiche quindi qui c'è qualcuno che inizia qualcosa di nuovo qualcuno sicuro di sé perché il mago è sicuro di sé qualcuno di veramente capace che prende in mano la sua vita e la sua autonomia andiamo a vedere che cosa c'è sette d'acqua qui abbiamo ecco infatti c'è una decisione da prendere una decisione difficile necessità di fare delle ricerche smettila di procrastinare quindi ecco che è arrivato il momento di come dicevo prendere in mano la situazione che forse avevate messo in pausa può essere sentimentale come può essere lavorativa come può essere non so un cambio di residenza qualunque cosa avevate messo in sospeso e stavate procrastinando nel prendere la decisione è arrivato il momento di prendere in mano la propria vita le redini della vita e prendere questa decisione che probabilmente è una decisione difficile forse per quello l'avevate rimandata però stare fermi in pausa in un impasse non porta nessun risultato qui vi dice di fare delle ricerche quindi di informarvi bene prima di firmare un contratto chiedere un prestito un contratto potrebbe essere anche un matrimonio perché no qui c'è l'acqua tra l'altro quindi i sentimenti vi dicono comunque di leggere bene di informarvi e di fare le dovute ricerche prima di fare qualunque azione dobbiate intraprendere splendida carta la porta aperta la porta aperta lo potete vedere voi stessi si intravede dell'abbondanza dell'oro un tesoro è aperta non è chiusa quindi avete il mondo davanti a voi infinite possibilità vi si aprono davanti e adesso prendo il libro e ve lo leggo la porta aperta vuol dire infatti successo esito positivo conferme il raggiungimento degli obiettivi e nuove opportunità che appunto potrebbero essere anche lavorative la carta può significare in particolar modo una nuova opportunità da cogliere in fretta o il raggiungimento dei propri obiettivi e successo se riguarda il lavoro il consultante può aspettarsi una proposta lavorativa la conferma di un contratto e appunto qua dice leggete bene prima di firmare un rinnovo o un'assunzione per chi magari era rimasto senza un lavoro oppure non vi piaceva più il lavoro che avevate volevate cambiare da tanti anni ma avevate paura perché lasciare la strada vecchia per quella nuova fa sempre un po' paura ecco perché bisogna anche poi fare le dovute ricerche però stare lì vi faceva stare male mi fa venire in mente il mago col fatto che è verde che vi eravate fatti come dire vi rodevate il fegato vi veniva sulla bile per questo il colore del mago mi viene da dire così per alcuni di voi che stavate veramente male nell'ambiente lavorativo avete mandato giù troppi rospi e eravate fatti il fegato grosso quindi se la domanda riguarda l'amore la carta dice che la persona che ci interessa è ben disposta nei nostri confronti o anche che la relazione attraverso un periodo molto bello e soddisfacente che potrebbe anche condurre e dai anche qua nasce la primavera sboccia la primavera e sbocciano gli amori qua che potrebbe anche condurre a un matrimonio o una convivenza quindi direi una carta bellissima ora andiamo a vedere cosa dice per l'amore eccolo lì tiè guarda come vanno i pari passo ragazzi state calmi voi del mazzo 2 che c'è un'eterna primavera qui meglio così come vi siete sbloccati vedete siete andati decisamente migliorando nuovo amore quindi una nuova persona ha risvegliato i vostri sentimenti per chi è single finalmente giungerà o magari c'è già ma non avevate fatto il primo passo la persona che vi interessa quindi è il momento di chiedere a questa persona di uscire nascerà appunto una nuova conoscenza e che potrebbe sfociare in amore l'angel therapy ah qua me ne sono cadute se ne sono due a differenza dell'altro mazzo perché mi sono cadute tutte e due e sono collegate quindi le ho lasciate così perché si vede che erano messaggi che dovevano arrivare infatti dice ascolta le sensazioni intuitive perché e sono collegate sei un ottimo chiaroveggente sono cadute così in coppia ve lo assicuro il tuo corpo sta ricevendo messaggi precisi dal divino qui e beh ma d'altro canto vi sta rappresentando un mago magia collegato con l'alto lui è magia il mago e infatti ecco che voi state ricevendo dall'alto dal divino guardate l'arcobaleno che è un ponte tra due mondi come dall'alto dall'alto vi stanno arrivando dal chakra della corona tutti i segnali e le intuizioni dovete appunto e vi stanno dicendo è ora di cambiare è ora di prendere la decisione non procrastinare vi stanno dicendo che è il momento buono perché è il momento per l'abbondanza per la porta aperta per i nuovi amori e infatti voi dovete fidarvi di quello che sentite perché siete ottimi chiaroveggenti fidati di ciò che vedi con l'occhio della mente con la tua vista fisica perché è la tua visione spirituale che aiuta nella guarigione nell'insegnamento e nel dare consigli quindi alcuni di voi magari sono anche portati per un lavoro simile potreste essere cartomanti voi stessi o vorreste magari diventarlo chiaroveggenti sensitivi medium o avete semplicemente magari fatto il lavoro che non c'entra con l'olistico o il campo energetico però siete sempre state persone empatiche ed intuitive capivate sempre cosa le persone avevano intenzione di fare o cosa stessero provando o pensando anche se fate magari un altro lavoro magari il dottore l'avvocato l'impiegato il commesso però lo capivate sempre perché avete un'intuizione molto spiccata e vi dicono di seguirla gli unicorni vi consigliano esprimi un desiderio specialmente se vedete le stelle cadenti o gli arcobaleni esprimi un desiderio e aspettati il meglio chiedete all'universo al cielo chiedete ciò che volete esprimete questo desiderio e ringraziate come se fosse già esaudito prima ancora di vederlo di vederlo come tale già esaudito perché questa è la legge di attrazione vuol dire affidarsi all'universo con la con la consapevolezza che quello che chiedi è già lì è già reale e le carte energetiche dicono ebbè ancora nuovo amore avete proprio love is in the air amore vi dicono amore c'è amore o è in arrivo amore nella vostra vita e di cogliere al volo quest'amore di coltivarlo ovviamente anche amore per voi stessi magari avete espresso un desiderio proprio di un nuovo amore o che la persona che magari avevate addocchiato vi risponde accetti il vostro invito o vi corrisponda ecco decisamente c'è in arrivo o c'è già molto amore nella vostra vita mi fate sapere mazzo 2 se vi risuona e passiamo al mazzo 3 eccoci qua allora con il mazzo 3 l'ametista andiamo a vedere che cosa dice per la carta numero 1 i tarocchi egizi che abbiamo il arcano 20 il giudizio allora il giudizio è una carta molto bella e molto potente quando si dice squillano le trombe del giudizio vuol dire che è arrivata l'ora che vi stanno chiamando per qualcosa di solito il giudizio sta a significare un rinnovamento un cambiamento di qualche sorta un cambio di posizione di lavoro può essere che cambiate casa può essere un cambio nella vita sentimentale c'è anche una sorta di risveglio di rinascita le trombe squillano proprio per ridestarvi può essere una nascita nel senso proprio una rinascita vostra morale spirituale intellettuale un risveglio anche un esame di coscienza c'è questo momento di transizione verso un miglioramento un periodo migliore una guarigione quindi un recupero di forza ed energie sia fisiche che energetiche può voler dire anche fama e pubblicità un momento appunto in cui siete godete di una buona reputazione che può essere in campo di amicizie come può essere in campo sociale come nel mondo appunto lavorativo può essere quindi una seconda morte un'iniziazione a un momento migliore andiamo a vedere cosa vi dicono infatti gli angeli ma quante abbiamo sempre avuto tre carte d'acqua con gli angeli in questa stesa cavaliere d'acqua emotivo romantico entusiasta e contemplativo innamoramento proposte di matrimonio allora calma qui che in questi tre in questi tre mazzi tutti voi avete o il matrimonio il fidanzamento la convivenza calma ragazzi con questi ormoni no sto scherzando è una cosa buonissima innamoramento proposte di matrimonio bisogno di equilibrio emotivo invito a un evento sociale anche qui questo è simile al mazzo 1 mi sembra che è probabile che verrete invitati in qualche evento sociale che potrebbe essere un matrimonio o di qualche altro tipo che vi porta divertimento o la conoscenza appunto di qualche nuova persona che potrebbe appunto sfociare in una conoscenza intima sentimentale o per chi invece è già in una relazione qua dicevamo che il giudizio è un cambiamento una rinascita uno step successivo quindi alcuni di voi potrebbero sposarsi potrebbero appunto ricevere una proposta di matrimonio o farla quindi c'è un cambiamento positivo in campo sentimentale per alcuni di voi vediamo la carta delle porte cosa dice qua dice la chiave arcano numero 5 che ci dice momento di successo capacità talento ma anche ingegno vuol dire praticamente che avete la chiave in mano vedete la soluzione in tasca per aprire la porta per il cambiamento che volevate appunto vuol dire che il successo è finalmente appunto alle porte e che abbiamo trovato gli strumenti per ottenere quello che vogliamo se la domanda riguarda un problema specifico la carta dice che la soluzione del problema è stata trovata o sta per essere trovata è solo questione di tempo se a porre la domanda è stato qualcuno che ha problemi nel campo lavorativo la carta dice che una volta presa coscienza delle proprie capacità e punti di forza sarà possibile che il consultante riesca dove prima aveva fallito se la domanda invece riguarda l'amore a proposito della carta precedente il consultante può aspettarsi di riuscire a conquistare la persona che gli interessa dovrà solo acquisire maggiore consapevolezza delle proprie qualità e imparare a farne buon uso al momento giusto può rappresentare questa carta anche una donna visto che è raffigurata una donna importante per la vita del consultante ecco che si ricollega alla carta del matrimonio quindi se avete chiesto qualcosa relativo all'amore conquisterete la donna o l'uomo della vostra vita e se qualcuno aveva intenzione di proporre di fare la proposta di matrimonio e aveva paura della risposta qui la carta ci dice che sarà un sì ma che belle carte ragazzi andiamo a vedere cosa dice l'amore eh infatti direi che meglio di così oh ragazzi lo mescolate non l'ho fatta apposta fidanzamento quindi chi farà la proposta riceverà un sì e se siete donne beh riceverete appunto voi una proposta e si convoglierà poi a nozze ovvero la tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato come dicevamo per chi era già in relazione da un bel po' chiaramente riceverete o farete una proposta di matrimonio ci sarà un fidanzamento ufficiale e un conseguente matrimonio il consiglio è se sei teso focalizzati sull'aiuto che puoi dare agli altri nel senso per scaricare per aiutare se stessi certe volte incredibile ma vero conta aiutare gli altri per aiutare se stessi esprimi l'intenzione di trovare la risposta alla domanda come posso rendere il mondo un posto migliore e la legge di attrazione si occuperà automaticamente dei tuoi bisogni dandoti appunto la soluzione la chiave facendoti capire quali sono i tuoi talenti e mettendoli in atto poi quindi vi dice anche di aiutare gli altri per aiutare voi stessi per sbloccare voi stessi e poi perché avete la capacità di aiutare anche gli altri quando sia tanto è giusto anche condividerlo gli unicorni vi consigliano immagina vi ricordate chi era come si chiamava la pubblicità con l'attore immagina puoi non era Richard Gere chi era George Clooney ecco immagina puoi ecco immagina puoi qua parlava di legge di attrazione chiedi la legge di attrazione automaticamente ti dà ciò di cui hai bisogno quindi se avete bisogno anche di qualcosa immaginate e chiedete dovete creare un'immagine nel cervello e imprimervi un'emozione un'immagine senza emozione non porta a nulla non porta al manifestarsi se invece immaginate per esempio anche non so lei o lui che vi dice di sì alla proposta di matrimonio che fate o voi già sull'altare e provate la felicità nel mentre l'universo registra questa emozione e vi dà proprio ciò che voi avete visto e chiesto tra virgolette ma dovete immaginare dovete visualizzare e immaginare cosa vedresti cosa penseresti cosa udiresti e come ti sentiresti se i tuoi desideri si avverassero ecco che dovete già immaginare cosa provereste cosa fareste come vi sentireste appunto se i desideri che avete si fossero fossero già reali perché sono già reali di fatto vi serve solo immaginare visualizzare emozionalizzare e riceverete dovete chiedere immaginare con appunto un'emozione ed ecco che quello che avete mandato in risonanza l'universo ve lo darà bene questo è tutto no scusate ho detto una cavolata mancava una carta e infatti vi diceva vi dice quella energetica luce luci e luce carta bellissima perché vuol dire fate entrare della luce nella vostra vita perché avete il potenzialità può voler dire anche appunto che voi aiutando gli altri siete operatori di luce può voler dire che fate finalmente luce sulla vostra vita infatti avete deciso per alcuni di voi ovviamente non per tutti che volete sposarvi che volete andare a vivere insieme che volete convivere fidanzarvi avete finalmente fatto luce quindi chiarezza sulla vostra vita in diversi campi vi dice secondo me anche di accendere letteralmente portare un po' più di luce nella vostra abitazione quindi non so di aprire le finestre spostare le tende fare entrare più luce nella vostra vita perché no accendere anche qualche candela magari qualche cena romantica lume di candela proprio in vista della proposta perché no quindi ora sì ora è tutto non ho più carte chi ha scelto il gruppo 3 mi fa sapere in un commento se vi risuona per favore lasciate un mi piace lasciatemi un commento iscrivetevi al canale e mi raccomando seguite la pagina facebook perché non so quando potrò comprare un nuovo pc questo è tutto io vi auguro la più magica delle settimane e il più magico dei mesi di aprile vi mando un bacio e ci vediamo in un prossimo video ciao unicorni